bella raga qui DanielaK47 eccomi tornato con il secondo episodio di questa serie andiamo avanti e vediamo chi è il nostro prossimo avversario ok hanno accettato quella richiesta che gli ho fatto va bene e stavolta si così ok stavolta dobbiamo farci il culo subito si va bene no inizia di nuovo la gava comunque ho guardato non c'era niente aperto non so perché la gava speriamo che stavolta non laggi più come l'ultima volta e che riusciamo a fare il culo ma va bene così vai vai no porco dio nooo ma che cazzo è ma dai c'è porco dio ma poi dovrò continuare pure grid per fortuna che la partita di prima era solo un amicale quindi non fa niente se l'abbiamo persa anche se questa è sempre un amicale la voglio vincere questa volta è crossa l'almeno porco dio nooo non c'è credo non c'è credo non c'è credo c'è avete visto come cazzo l'ha tolta non c'è credo questa è sfiga c'è 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 sembrava dentro guarda tu che cazzo di sfiga c'è quando sto per fare il primo gol no 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 ce la siamo capata là dai cazzo qualcuno che va avanti che cazzo la posso passare se non andate avanti Mattea lui si perfetto lo metti là in mezzo si bravo sul portiere kemo ma va affanculo fino al primo tempo vabbè quanto dura il vantaggio ho dieci anni che palle che è mo' sta roba che è mo' sta roba che palle con un gioco senza registra sfondo il culo a tutti perché contro il registro faccio schifo di brutto se cross incuro alla luna dai almeno adesso perchè torni indietro perchè vabbè cazzo fai cioè io non lo so sono stati drogati prima della partita non lo so è fuori gioco oh no vai dai porco dio come cazzo hai fatto manca la porta non so non so perchè ho crossato la però vabbè tanto ormai sta partita o la pareggiamo o la perdiamo o la perdiamo comunque la deve si peggio passaggio peggio passaggio de merda perchè gliela tiri nelle sue mani non abbiamo avuto la fortuna di segnare sempre da calcio danno che cazzo stai a fa' ah alla fine ha visto che mi stava a tirà vabbè tanto lo so che c'ho sfiga e non farò call perchè mi vibra pure il controllo si tanto non entro è entrata ci abbiamo avuto a culo almeno una partita la vinciamo dai forse dopo sto gol le partite inizieranno a essere migliori si ok vai nooo che parola ecco è finita vabbè la cosa che conta è che abbiamo vinto oh che riguarda l'uomo partita ok giocatore infortunato vingerli tre settimane è perfetto già iniziamo benissimo per la prima cosa mettiamo lui mettiamoli qua un po' dei cambi subito queste non sono salvati prima mettiamo philip e ok devo cambiare il modulo di nuovo così così ok facciamo vabbè 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 che dai che ora si gioca meglio speriamo che che mi 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 fatto bene strano però perchè sto a 40 frame non dovrebbe laggare non dovrebbe però ma dai come cazzo hai fatto a perdere così palla i commentatori sono muti ok siamo salvati oh che palle però smetti di dare della gara vai abbiamo a cari vai cazzo portiere del merda pia che palla ma dai cazzo che state a fa vai popa popa ci va a cari non ne falla certamente che palle catroia oh pia palla porco dio ragazzo non voglio che sta partita stavamo fino alla fine senza segnare una rottura vai tu vai tu vai nicolic che cazzo fai che palle che era quel tiro speriamo che dopo che compriamo quel giocatore si gioca meglio speriamo fanculo che palle dai no cazzo che palle perché 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 lasciate i buchi in mezzo a voi vabbè finito il primo tempo dai nel secondo si può fare qualcosa che palle che palle che palle che palle si vabbè si vabbè che ma che cazzo che ho fatto che scada solo ma porca troia però avete rotto il cazzo non lo so 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 vai su su che stavolta si può fare ma che cazzo fai porco dio non bestemmia in sta partita ma non ce l'ho fatta che cazzo ha provato a fabio la carrella che cazzo non ho capito non ho capito come cazzo hanno fatto no ma che cazzo fai cioè non c'è posto credi là poteva essere gol ritirati fuori ma dai ma che cazzo mi combinate io che speravo di fare una carriera figa invece sta a fare peggio schifo almeno lasciatemi pareggiare porca troia vai e porco dio io sono tutti morti si mi so accolato ma non credo di poter combinare qualcos'altro tanto ormai ci sa quando entreranno vai 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 porco dio perché perché porco dio il portiere del cazzo di maghella hanno fatto la barriera niente fanculo porco dio che palle che palle vediamo noi giusti si dai mi è venuto speriamo con l'arrivo di questo nuovo giocatore giocheremo molto meglio speriamo beh allora non penso di tutto di questo episodio ricordate di lasciare un bel mi piace un commento se il video vi è piaciuto iscrivetevi visitate la pagina facebook e al prossimo episodio al prossimo video bella per Non mi usi black, non mi usi black